Mario Tomasini è deceduto il 18 aprile 2006. Sì, il signor Mario Tomasini è scoperto in aprile 2006. Lasciandogli in eredità il suo operato e le sue idee. Credo che il nostro compito sia quello di sensibilizzare la società. Il nostro obiettivo è di aiutare la società, i politici, le istituzioni, le istituzioni, tutto. Sulla necessità di creare le condizioni perché ogni uomo e ogni donna possono vivere di me chiaro di vita. Il problema riguarda tutti noi. Anziani lo diventeremo sicuramente. E come tale forse vivremo la stagione più lunga della nostra vita. e probabilmente stanno viveremo la più lunga della nostra vita, la più lunga della nostra vita. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. di questo progetto di San Tiedoli chiede questo signore se oltre che a Tiedoli ha insegnato qualcosa ci sono altri progetti simili a Tiedoli fuori di Tiedoli io so che a Santa Maria sono iniziati ma non hanno avuto il risultato che abbiamo una cosa molto strana il nostro progetto è molto conosciuto in Germania grazie credo a Loretta e in Austria e in Italia credo che la causa sia che in Italia si parla poco di anzianità perché in Italia è un problema che copierà all'improvviso è un problema che non si parla è un problema che non si parla è un problema che non si parla ha un problema che non si parla e che in Europa ci sono un problema che non si parla che non si parla che non si parla ma non si parla Lui dice che in Austria, per esempio, le case protette sono bellissime, funzionanti, tutto quello che vuoi, però c'è questo anello mancante che collega l'anziano, che vorrebbe rimanere nella propria casa, piuttosto che, e non c'è questa possibilità, perché non c'è interesse politico per il momento. Fuori dell'Italia, qui sono nostro. Anche dopo aver letto il libro, noi abbiamo ricevuto molte visite in questi anni dalla Germania. E' venuto anche una deputata tedesca, e in settimana io andrò a Bologna, dove 15 deputati della Bassa Sassogna vogliono conoscere il progetto Tiedoli. Quindi in Germania è un progetto che vuole essere sviluppato. Grazie a Dorett Deutch ha il libro, quindi è molto più conosciuto, penso che sia più conosciuto. Sì. è tecnologico è proprio il suo lavoro è qualcosa è da 2 giorni per 2 giorni per 2 giorni per 2 giorni per 3 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 giorni si è di operate Laura Laura è per il servizio ora gli hanno una speciale sensore sulle tue ogni volta che la tue con la tue ha il signo ha il sanno quindi se lo succede a mattina, sa che si apre la porta e tende a riuscire a riuscire. Sì, grazie. Benvenuti. Il presidente peggiora cosa succede? Sì, l'abbiamo detto prima. Di solito si interviene anche con l'assistente sociale che fa un altro progetto. Noi abbiamo avuto una signora che per un po' di tempo è stata qui alle case di chi? Allora, in generale c'è una decisione che è stata fatta con l'assistenza sociale. Per esempio, abbiamo avuto un'amica madre qui per un po' di tempo. Poi dopo abbiamo chiesto alla famiglia, perché può vedere anche l'assistenza privata. E poi hanno chiesto alla famiglia cosa vuoi fare perché possono scegliere un'assistenza personal. They can hire, the family can decide to have a personal carer, carer for the personal Is that like a 24-7 service? Oh, yes, well, then that's the family who decides. Quella è la famiglia che decide. Decide, esatto. Perché io posso mettere per mia mamma un'assistente privata qua. I can decide to have a personal carer for my mother here, for example. And I pay and I decide, you know, if she can sleep, if she sleeps here. but she does a lot of life can decide why. Mi chiede se la famiglia però non ha... Va in struttura .. e si tiene lo più possibile, per la sicurezza delle anziane quando hanno in arrisco sicuro. 카 mi interviene l'assistente sociale. i servizi sociali che si tratta e poi si tratta con l'algero ed il servizio nazionale quindi la decisione si tratta. Questo è il libro scritto, ma è più completo di quello che hai. Questo è il libro scritto. Grazie.